C'è una certa preoccupazione tra i rivani in merito al nuovo Palavela, la grande struttura compresa tra il Palazzo dei Congressi e la sede della Fraglia, ormai quasi pronto all'utilizzo e che a vedersi parrebbe essere tutto meno che provvisorio. La Patrimonio del Trentino S.p.A., la società immobiliare della provincia proprietaria del Palavela, ha ottenuto in realtà il via libera alla permanenza dell'opera per due anni, rinnovabili al massimo per altri due, come impone una normativa provinciale. Ciò significa che al massimo entro il 2021 il Palavela dovrà essere smantellato e dentro quella stessa data si presume saranno conclusi i lavori per l'ampliamento e l'ammodernamento del Palazzo dei Congressi, con annesso teatro. Nella giornata di oggi la proprietà e la Commissione Provinciale di Vigilanza hanno effettuato il sopralluogo decisivo per la concessione dell'agibilità della struttura, che diventerà ufficialmente operativa già nei prossimi giorni e alla fine del mese ospiterà anche l'edizione 2017 del Bike Festival.